Fino al 1980, il Barolo non era economico. Nessuno ne fregava niente. Solo poi con gli Stati Uniti che hanno conosciuto il Barolo, cosa è successo? Dopo quegli anni hanno cambiato questo e hanno messo questo clono nuovo. Da lì è iniziato a essere produttivo, perché altrimenti il Barolo non aveva condizioni di lavorare. Perché il nebbiolo da Barolo, perché questa planta è nebbiolo da Barolo. Ela è iniziato a essere produttiva quando aveva un po' di più di frutta. Perché altrimenti da fare due garrafi, ti prendi una, ti prendi l'altra e ti prendi. Sai un'altra cosa che gli stavo dicendo, magari gli piace registrare con la tua voce? Qual è un lavoro continuo delle vini, gli fa un risultato nell'anno. Adesso in questo momento è andata via la neve, cosa stanno facendo? Praticamente ogni settimana da partire dal mese di aprile uno è nel filare. Comincia da oggi, che devono fare dopo la neve? Adesso abbiamo fatto questo. Questo cosa vuol dire? Abbiamo legato. A gennaio abbiamo tagliato queste. A gennaio abbiamo tagliato queste. A febrari 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 abbiamo tagliato queste. Perché se non questi braci vengono per fuori, non? Ci devono essere tutto reti. A marzo sono passati con il trattore. A marzo. Si. Per trincare, si dice trincare in italiano. Per trincare, queste cose qui nel chio? Apenso c'è di nuovo il sol, si muove la terra come quella. Quando si è seco, loco che secasse, che che buona la neve, che buona questa chuva, si deve passare con il trattore per arruzare. Poi verso il 20, 28 di aprile, si fa il primo trattamento chimico alla foglia. e poi la prima settimana di maggio si comincia già a eliminare la pulizia del vecchio perché qui metterà delle gemme e poi ogni dieci giorni si fa di nuovo il trattamento e poi se pulisce si va su si mette il filo blu bianco come dice non sei più per cerrado per chiudere la all'interno perché se non essas folie elas vanno per onde las quisere tem che formare il cammino delas per due motivi due motivi prima perché dopo quando a gente for ricordare se non le persone non passano qui nel medio e secondo perché tutti i filari vanno ricevere sol da stessa forma se tivere tutto disorganizzato alcuni vanno cobrir per questo che hanno bisogno di mettere molto